ragazzi vi piace? no! per niente! io poco poco se per caso sia qua Balsac, l'hai detto? Balsac, Balsacar, Balsamo andiamo manchiamo solo noi due ragazzi questa è la Sardegna non sono inciampato né caduto per adesso è la Sardegna ragazzi ragazzi questa è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna andando insieme casino è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna allora c'è scritto ente foresta della Sardegna che ha protetto questi firmamenti di protezione unitica e cattiva è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna è la Sardegna qui dentro ragazzi questo sarebbe il vero parco di Sardegna è la Sardegna e vi faccio il mare 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 qui lascio a fare ragazzi il... i ceriti i ceriti i ceriti e vedrai Sì, 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 sì. Ah vai, entriamo sotto il ponte Entriamo dentro il ponte Che bello Benvenuti al Jurassic Park Jurassic World Mi sei inquinato Inquinato potrebbe essere Eh minca, se ti rubi i denti boss Ti cadono il giorno dopo Minchia Aiuto Questo è un sentiero È un sentiero Ragazzi benvenuti al Jurassic World Ma John Hammond fa parte anche questo del turno Cosa? John Hammond John Hammond chi è? John Hammond Il padrone del parco di Jurassic World Punk Jurassic Punk Jurassic Punk Ruby Punk Rubic Che bello quel cagnolino Rubic Scusa, finisce qui il sentiero, bello Finito Siamo fuori dal tunnel Llelelelelele Sta con le pontine Non mancano il mio Capitano Non è un motore Il mio Il monopio che bello io ho sentito qualcuno ruttare che cos'è un cervo avrà bevuto 3 kg di alcol c'è un animale ragazzi ho sentito qualcuno ringhiare che il caprole i caproni di satana il caprone dove quel ringhio non sappiamo che cosa potrebbe essere il mio amico sta giocando in avanti che colaggio ecco gli altri arrivando che cosa ci che cosa troveremo che ci troveremo il bastone c'è una cosa di rifugio dei soli vecchia caserma forestale vediamo che cosa parla questo cartello ragazzi allora comuni sia in questo almeno luogo c'è già caserma forestale ha dei pimenti del proprio da ferro allora ragazzi siamo qui seduti che adesso qual è il nostro andrew si è a vortici zio lai capelli sono cristiano sborando sballando 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 lo facciamo scendiamo guarda che chiude alle 5 no non inquadrarmi censura chiude alle 5 sei pazzo se compagno ah vedo che c'è il cancello chiudono i cerchi comunque stiamo pronti per proseguire e andare da a 60 da cosa sta dicendo che ti segnala i video segnalerò questo video e poi ma che non mi piace a tutti i video possibili esatto ma lui non si può più mettere non mi piace beh ve lo vi ho fregato mi ha fregato a voi haters raters raters però nelle premier alla gang non si infama cosa si può mettere non mi piace cosa vuol dire si ho messo una modalità dove la gente può mettere mi piace però la gente non può sapere quanti like ho e non possono neanche vederli neanche io così non mi arrabbia neanche eh però li possiamo mettere non mi piace comunque però si però non sa quanti perché la gente fa così vero voi che vi state a guardare tanta la gente fa sapere così mi mettono il like ho sbagliato il dislike perché gli altri mettono il dislike invece se la gente mette un like dici di mettere un like perché tanto non sappiamo quanti dislike ci sono ho visto la boss capito capito haters con tutti maschalzoni fuori comunque adesso andiamo ragazzi dobbiamo scoprire qual è il mister ma il maxi bon che non si prende ma il maxi bon maxi bon ma il maxi bon ma il maxi bon ma il maxi bon saliamo un altro po se ancora non c'è un cazzo scendiamo quanti fichiamo non lo so 5 minuti di camminata 5 ma non ci credo neanche se mi fa in questi 5 cercherò di andare il più sopra possibile in modo tale da raggiungere qualcosa si ma cosa speri di raggiungere boh qualcosa ci siamo fermati perché perché questa cosa salita è bella ripida e quindi guardate com'è un'energia e bravi guarda è anche Bizzio guardate è il grande boss su ragazzi stiamo salendo wow che bello ragazzi cosa si che è una foresta oscura beh qui se fa buio diventa oscura veramente non ci rimaniamo quando fa buio e che ne sappiamo e se ci perdiamo per andare a vedere alla ricerca di questa foresta oscura cosa ci sarà di un moto misterioso quindi stiamo proseguendo quindi Diana Jones è pronto tutto Bizzio non ce la fa più Bizzio cosa c'è c'è quindi da poco a poco per coprire gli altri Bizzio che è successo c'è l'obelizione andiamo subito a vedere che cosa è successo vai oh guarda questo cancello c'è un frontiere rosso l'hai giusto però proibito sì eh zio senza Beatrice non andremo molto lontano quello è il paradiso Marianna Beatrice ma al massimo del purgatorio ci vediamo ma il paradiso non ci può mettere manco per intanto perché? quando? che cazzo ma poi sta marchando tranquillamente non c'è l'unico mai stato ma che questione però secondo me ci da mettere in conto che boh se deve aver voglia di camminare è un'altra mezz'avere è bellissimo sì qui siamo in una zona oscura anche i tipi allora ragazzi stiamo scendendo perché è troppo troppo lontano poi è molto rapido perché è ripido perché è tutta salita poi il nostro amico è sceso da giù e quindi togliamo a questo qui ah no mi sono salito io comunque mi sono che ripido qua si ragazzi ma qui che cosa c'è c'è un bosco qui è un bosco qui è un bosco qui è un bosco qui flower funk chiaro vieni a flower funk manis no quella è la scolera la scolera no è quella di stanza dai ti faccio compagnia dai ti faccio compagnia stiamo a vedere cosa c'è la via un poco a poco se c'è qualcosa se c'è qualcosa guardate che bellezza però che mistero si sale anche se compare qualche cinghiale o qualche muffone cervo mi viene addosso un bel guaglio ci posso credere si fra è bello molto io qui io e io qui e non bobo si mi ha deciso di andare in Pia ragazzi io vi saluto un grande abbraccio a tutti un saluto dalla mia squadra scolativa naturalista come sapete non capita escono le nostre avventure se ne fa loro e quindi io vi saluto alla prossima prossima avventura ragazzi un saluto da Indiana Jones ciao ragazzi e alla prossima ciao ragazzi alla prossima let's go ciao ragazzi salutate ciao 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 ciao